Il comune di Calatabiano attribuisce la cittadinanza onoraria a Don Pietro Antonio Ruggiero per il suo impegno e le sue opere nei confronti della città e dei suoi abitanti. Nato Ceram in provincia di Enna, Don Ruggiero ha conseguito il bacca laureato in teologia all'Università Pontificia di Catania nel 1995, un master di diritto internazionale nel 2003 e uno in diritto dei religiosi nel 2004. Dal 2008 è anche giornalista. Uomo di straordinaria e indiscussa caratura morale, negli anni Don Ruggiero ha saputo manifestare amore e passione e un forte legame con Calatabiano. Si è distinto particolarmente per l'impegno culturale e religioso, assicurando per ben vent'anni la sua presenza durante la celebrazione eucaristica ufficiata in occasione dei festeggiamenti in onore di San Filippo Siriaco, compatrone e protettore di Calatabiano. Queste alcune delle motivazioni con le quali il sindaco Giuseppe Interisano ha deciso attraverso una determina di conferirgli la cittadinanza onoraria. Questa è una scelta che anche se afferisce attraverso una determina sindacale, è qualcosa che nasce dal coinvolgimento intanto di tutta la Giunta, di tutto il Consiglio Comunale e soprattutto di tutti i concittadini che hanno visto in padre Ruggiero in questi anni un padre spirituale che ha saputo dialogare, comunicare anche in momenti difficili che ha attraversato Calatabiano da un punto di vista economico, da un punto di vista delle tensioni sociali. Lui li ha riuscita ad interpretare e ha dimostrato un affetto inusuale per un parroco che peraltro non è di Calatabiano ma è della provincia di Enna che è stato sempre presente a Calatabiano dimostrando affetto, amore verso Calatabiano e con la sua capacità di intrattenere, di interloquire con delle omelie che sono delle perle che lui ogni anno lascia a Calatabiano. Io ho immaginato di conferire la cittadinanza oranaria a Don Ruggeri perché è veramente una persona che ha dato tanto a Calatabiano, non bisogna dare tanto solo in termini di risvolta economica ma lui ha dato tanto in termini di affetto, di stima e soprattutto di capacità di riuscire a creare un dialogo che si era magari, aveva subito un cortocicuito con la comunità e questo lui l'ha riemesso, l'ha riabilitato e di questo noi ne siamo grati. Grazie. 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 Grazie.